Cari spettatori, in questo istante il plotone sale verso il passo. Ma non vedo la maglia gialla. Dov'è? È persa nella nebbia. Ah, eccola! Ma cosa succede? Non ne può più, si ferma. Uno spettatore si fa avanti per incoraggiarlo. Cosa vuole dargli da mangiare? Ah, dello zucchero! Ottima idea! Dei ricercatori hanno osservato come l'introduzione dello zucchero presso popolazioni indigene scatene malattie cardiache sino ad allora sconosciute. Da documenti confidenziali interni all'industria zuccheriera, Christine Koenst ha scoperto che sin dagli anni Sessanta essa ha sovvenzionato delle ricerche per fare del colesterolo il solo responsabile delle malattie cardiache. Johnny Adkin, un fisiologo britannico allarmato per le connessioni tra il consumo di zucchero e i disturbi cardiaci, riuscì ad attirare l'attenzione dei media e del pubblico sui pericoli potenziali dello zucchero in relazione al cuore. Nel 1964 l'industria zuccheriera iniziò a preoccuparsi seriamente in seguito alle prove che stavano emergendo sui legami tra zucchero e malattie cardiache. Davanti ai fiumi di rapporti di laboratori come quello di Adkin che collegavano lo zucchero alle malattie cardiache, John Hickson, l'allora vicepresidente della Sugar Research Foundation, dichiarò che occorreva mettere in atto un piano d'azione. Nel 1965 una serie di articoli pubblicati inizialmente negli Annals of Internal Medicine fu ripresa dal New York Herald Tribune, allora un importante concorrente del New York Times. Un articolo a piena pagina dell'edizione domenicale si chiedeva se fossero realmente i grassi a essere connessi alle malattie cardiache o se il responsabile non fosse invece lo zucchero. E proseguiva dicendo che se sino a quel momento il legame tra zucchero e malattie cardiache era teorico, le nuove prove emerse rafforzavano questa ipotesi. A pochi giorni dalla sua pubblicazione i responsabili dell'industria zuccheriera decisero il lancio del progetto 226. Si trattava di affidare a dei ricercatori di Harvard una revisione commissionata della letteratura scientifica sull'argomento e successivamente di far pubblicare una critica di ogni lavoro che collegasse lo zucchero ai disturbi cardiaci, in modo tale da spingere i politici ad accordare meno importanza agli studi che tracciavano un messo tra zucchero e malattie. Ecco uno scambio di corrispondenza tra Hickson, dell'industria zuccheriera, e Hexted. Il primo si chiede come mai non avesse ancora ricevuto nulla. Spero che sarà possibile farmi avere al più presto una bozza del manoscritto affinché io possa adempiere ai miei obblighi. E in questa lettera Hickson scrive a Hexted, grazie mille per la bozza del manoscritto. Le assicuro che corrisponde esattamente a ciò che avevamo in mente. Non vedo l'ora di vederlo pubblicato. Il manoscritto verteva sulla domanda lo zucchero causa malattie cardiache? Fu passata e rassegna una quantità enorme di studi analizzandoli meticolosamente per evidenziarne la seppur minima debolezza. L'articolo pubblicato non menzionava alcun sostegno da parte della Sugar Research Foundation. Dunque abbiamo il ricercatore di Harvard e il prestigiosissimo New England Journal of Medicine. L'industria dello zucchero aveva trovato il miglior modo di far passare il suo messaggio.